Escono gli ultimi led, si aprono le gabbie, partiti i cavalli della terza corsa. Parte bene The Desert Music, parte bene anche Afterstorm, dietro a questi Zirakpur, poi più all'esterno troviamo Diabolo James, Keplero, Ridge Racer, Pellicano Joe, Diabolo James e Pepao a completare il quadro. Dopo la prima fase di studio Afterstorm prende decisamente l'iniziativa e si porta in vantaggio pur galoppando su una fascia esterna e convergendo lungo lo steccato, preso un buon margine in questo momento rispetto al primo degli inseguitori, cioè The Desert Music che ha in schiena Zirakpur, quale a sua volta in schiena Ridge Racer, poi troviamo la giuba grigia che è quella di Keplero a precedere la giuba a scacchi bianco e verde di Pepao, all'esterno c'è quella bianco e arancio di Pellicano Joe a completare il quadro. Diabolo James, andatura piuttosto allegra, quella imbastita in avanti da Afterstorm con Carlo Fiocchi in sella, in seconda posizione si manifesta Zirakpur all'esterno di The Desert Music, poi a seguire Pepao in quinta posizione galoppa Ridge Racer insieme allo stesso Keplero, poi ancora Pellicano Joe e poi a chiudere il quadro troviamo Diabolo James. Siamo addirittura ad arrivo con Zirakpur il primo ad andare in pressione rispetto allo stesso Afterstorm ma è comunque ancora in seconda posizione, The Desert Music che si fa sotto ma ancora più minaccioso c'è Pepao, poi più al centro della pista troviamo anche Ridge Racer e lo stesso Pellicano Joe con Diabolo James che in questo momento è coperto. Ma Afterstorm è ancora in vantaggio nei confronti di Zirakpur, ci prova anche lo stesso Pepao, ci prova Pellicano Joe che Plero che in questo momento non ha lo spazio, Afterstorm è attaccato da Zirakpur e attaccato soprattutto da Pepao che ci prova del centro la pista. Pepao in questo momento è leggero vantaggio e stacca deciso. Si manifesta all'esterno di tutti anche Diabolo James che tenta la rincorsa, Pepao contro Diabolo James, Pepao che la risolve e vince nei confronti di Diabolo. Per il terzo e quarto sono vicini Afterstorm e Zirakpur. I due pesi più alti dunque che continuano a manifestare la forma estiva vince Pepao con in sella Samuele Diana, il training è quello di Alberto Oppo e i colori di Roberto Maldarella che vince il 500 numero 1 a segno. La quota era di 7,21, al secondo posto il 6 Diabolo James 1,6 e per il terzo posto il 2 Afterstorm 1,6,2 e l'ordine d'arrivo numerico ufficioso della terza corsa da Capannella. Grazie.